Mr. Helmet, siamo da Suomi, io la faccio sempre col cappello, però stavolta mi sono tolto il santo di cappello e abbiamo parlato mezz'ora, dieci minuti prima di questa intervista, microfono spento, tutta la parte meglio l'abbiamo detta però vediamo di buttare giù due battute Su cosa? Non lo so, allora parliamo di, non so se tu sei un appassionato di oroscopo, allineamento dei pianeti, cabala, ti spiego perché però ti dico, allora un allineamento così come striscia, pilota italiano, moto italiana, sponsor italiano, stivali, tuta, casco primo italiano a vincere in superbike che è un campionato organizzato da italiani, in Italia, non so c'è qualcos'altro di tricolore secondo te, anche il più illustre matematico non avrebbe mai potuto sperare in una cosa del genere? Sì, anche il tassinario della situazione, quello che ha vinto Bulli, Pube Secchione che è un ragazzo che fa calcoli matematici, algebrici è una roba incredibile, neanche lui forse avrebbe trovato qualcosa di più da aggiungere a questa striscia di italianità però diciamo che l'unico neo è che forse avrebbe dovuto vincerlo un italiano anche un po' prima visto che è tutto italiano il campionato, ci sono voluti vent'anni, insomma un po' troppi credo che vent'anni indorna uno spagnolo avrebbe vinto prima, forse Adesso non mi dire che tu non sei contento di essere stato il primo avresti voluto Certo, per carità, le gioie, l'eccellenza è sempre una cosa fantastica e magari capitasse spesso però per fare una panoramica un po' generale e bonista, secondo me in un campionato di casa nostra i nostri dovrebbero essersi più a casa, dovrebbero sentirsi più a casa E' anche il sogno di ogni uomo marketing una cosa così, sei una figurina tricolore tipo quelle dei ciclisti, quelle biglie dei ciclisti Me le ricordo, tipo Saroni, Moser, Pulite una volta Sì, siamo su quell'epoca lì Senti, ti volevo dire, lato interviste, noi ne facciamo una ogni anno qua da Suomi la prima volta era con la Suzuki, era andata bene, però insomma poteva andare meglio Poi la seconda, una volta ti ho regalato un gilet fosforescente perché ti venivano sempre addosso Questa è una progressione che ti attendevi, oppure c'è stata un'impennatina quest'anno? E' un miglioramento bello perché ovviamente siamo passati da un po' di sfortuna forse a essere un po' il bersaglio in pista di troppi a diciamo al massimo che si può sperare all'eccellenza del risultato come hai detto te, tutta questa italianità addosso con un pilota che insomma da tanti anni che è sulla breccia fa piacere, è una cosa, ha un fiore all'occhiello diciamo che negli ultimi anni questo è uno di quelli che è trascorso troppo velocemente vorrei rallentarlo, riviverlo, riassaporarlo, cosa che non si può però è talmente bello che mi piacerebbe gustarlo un po' di più Quest'anno hai vinto, no? E poi hai già avuto questo pensierino malefico di smetto, no? forse no, un momento di stanchezza, no? Adesso però io ti devo chiedere, per l'anno prossimo sai come faceva Lucarelli? Paura? Oppure non so, sei pronto? Perché adesso hai vinto tutto bello adesso o rivinci facendo sanguinare qualcuno in pista oppure... Sai che la cosa più difficile è vincere e la cosa più complicata è riconfermarsi però la stessa domanda che potresti fare a quei pochi campioni eccellenti che ahimè sono costretti a vincere, no? Hanno questa lama sopra la testa che o fai uno o niente due già non va bene e diciamo che è una sorta di pressione in più che devi poter superare e devi comunque lavorare duro fare un anno pur sapendo che hai questa extra pressione addosso cercando di migliorare il migliorabile sulla parte tecnica, su te stesso, sulla condotta della gara e non lasciare niente al caso diciamo che è bene o male quello che faccio sempre solo che quest'anno mi è riuscito molto bene anche troppo e il prossimo anno sarà semplicemente molto più difficile ma noi ci stiamo attrezzando l'unica cosa che mi sento di dire è che per quelle persone, quei piloti che hanno ambizioni ridate dovranno comunque fare i conti con noi con noi significa con Mars Biaggi con l'Aprilia Racing con l'italianità di cui hai parlato e noi ci siamo pacchetto, sai che adesso si parla di pacchetto attento perché sono anche altri pacchi oltre che il pacchetto hai la capacità di farmi dimenticare le domande che mi ero preparato segno positivo oppure mio con semilità o altro ma senti una cosa adesso volevo parlare di te che sei cambiato tanto e adesso anche quelli che non ti volevano bene che ce n'erano cioè c'erano quelli che ti volevano tantissimo bene e poi qualcuno che te ne voleva meno allora io volevo sapere se tu hai delle ditte sai quando uno si lega le cose al dito ti sei legato al dito qualcosa a livello di pubblico, media, giornalisti che sono diventati improvvisamente gentili che insomma ti hanno riscoperto questa sorta di cambiamento, buonismo chiamalo come vuoi fatto in parte dalla maturità e mi fa capire che il tempo passa e lascia quello che lascia dunque strascichi ma non servono ripensamenti neanche secondo me la cosa bella è quella che abbiamo adesso c'è un max così che è piacevole forse più piacevole di prima rispetto anche a coloro che pensavano il contrario e lasciamo solo questa striscia positiva senza privangamenti senza ripensamenti perché coloro che mi amavano in modo esagerato è una bella riconferma per gli altri è una scoperta lasciamola così ti manca solo che vai dal balcone dal balcone e poi tiro giù lo strascico e comincio a fare il sì ma l'abito bianco non sono uno da abito bianco da bianco verde senti facciamo due chiacchiere su questa cosa un po' perché siamo a casa di chi lo fa un po' perché questo è un po' di storia dipinta su un casco tu ci devi raccontare un po' sai che l'hanno tolto dalla vetrina non l'aveva preso in mano nessuno io stavo leccando la vetrina sono tre giorni che ad oggi hanno tirato questo è stato un casco semplicemente voluto da Umberto Monte ho detto guarda qui dobbiamo fare un casco celebrativo ho detto ma com'è sicuro ma sì no dai facciamo l'abbiamo fatto abbiamo messo dentro la storia diciamo più prestigiosa del pilota negli anni che poi è quasi un ventennio i trionfi del primissimo quello con l'Aprilia Chesterfield chi non se la ricorda è il 94 passare al 95 il 96 il 97 la vittoria con la Honda Malboro fino ad arrivare al 2010 alla consacrazione del Made in Italy questo ha voluto così significare qualcosa di importante per quelli che sono appassionati sfegatati innamorati di Max Biagi sicuramente non se lo lasceranno sfuggire questo casco per gli altri secondo me è sicuramente un bello oggetto da non perdere perché ci sono solo mille pezzi no abbiamo cambiato no ci sono 999 pezzi perché uno ce l'ho io cioè l'ho ordinato io questo è il tuo e va in beneficenza? sì il 3 il 3 perché ricorda il mio numero e abbiamo estratto questo casco da dare da mettere sull'asta al miglior offerente e lo diamo all'associazione Ollus di Andrea Dudisco che è il mio nipote che è mancato quando aveva 10 anni per un problema una malattia brutta di lucemia per la quale io sono 13 anni che lavoro e mi do insieme ad altri nei tempi libri non so mi viene da ricordare Fiorello Max Giusti Max Tortora la Cuccarini Mietta Angelo ce ne sono tantissimi Piero Angela tutti fanno sempre qualcosa chi meno chi di più e questo vorrei che venisse comprato anche molto di più di quello che vale proprio per un per uno scopo importante questo è anche un casco hanno scelto di fare un casco più accessibile come gamma in modo che anche i veri appassionati possano con un modello entry level di media gamma potersene appropriare insomma a volte le passioni sono inaccessibili ed è peccato ma anche perché adesso ovviamente è tutto un po' ribasso la gente guarda molto sta molto attenta al costi in qualsiasi ambiente non solo motoristico ma anche nella vita normale è normale che tutti si devono adeguare anche i caschi e la Suomi in questo caso ha fatto una grafica comunque bella particolare ma su una base ricasca un po' più accessibile a tutti senti io sono stato bravo non ti ho chiesto come va la moto tutte queste cose che so che come sei salito come va la moto però ti devo chiedere perché me l'hanno chiesto sia sul mio Facebook sia da Suomi se tieni il numero 3 o il numero 1 o il numero 1 adesso una risposta me la devi dare sto facendo un sondaggio un po' così con delle persone che alla fine ho a che fare da vicino siamo ancora sul 50 40 60 siamo è molto indeciso perché chi mi dice il 3 è un'istituzione un marchio di fabbrica a chi mi dice l'1 è l'eccellenza dei numeri e se guardi anche il passato e questo è vero non so se ci hai mai fatto caso da quando ho vinto il mio primo mondiale avevo il numero 4 sono passato al numero 1 l'ho 23 subito dopo allora chi dice alla cabala chi dice bisogna eseguire l'istinto della fortuna ce ne sono tante di deciderti o ci credi o non ci credi io non ho ancora deciso non ho ancora deciso però adesso lanceremo un così un sondaggio sul mio sito chi disegna un numero 1 talmente accattivante bello che non si può non mettere peserà fortemente sulla mia decisione finale allora se vuoi ti do una mano io sul mio facebook ho 20.000 iscritti e poi c'è anche suomi facciamo un sondaggino vediamo colleghiamo faccio tanto i tuoi da lunedì o martedì parte questo sondaggio su www.max-biage.com chi invierà dei bozzetti delle cose carine accattivanti verranno presi seriamente in considerazione e questo può darsi che cambierà già nei test in questi due tre test che abbiamo prima del campionato dunque dal 30 novembre al 2 dicembre saremo in Australia se verrà pronto già qualcosa già lì vedremo un piccolo tentativo un timido tentativo e poi decideremo per febbraio ma vabbè ma c'è un alieno dentro quest'uomo fa le televendite hai fatto la televendite no hai fatto l'uomo marketing di promozione ti sei promosso il sito adesso io sono un po' preoccupato perché non mi vedrai mai vendere delle pentole su Italia 1 a televendita però l'hai promosso bene sono contento devo dire diciamo che con gli anni un po' di esperienza l'abbiamo capito o tardi o presto un po' l'abbiamo capito senti io ti ringrazio c'è un po' di fila fuori doppia prima i colleghi stampa, foto così e poi ci sono un 300-400 persone che si stanno dando delle gomitate adesso iniziamo iniziamo perché è l'orario ci aspettano l'appuntamento era a mezzogiorno e mezza sono arrivato anche in anticipo hai avuto la priorità perfetto voglio dire così ma adesso io posso anche andare a casa adesso siamo a posto adesso tutto ok un saluto e noi ti ringraziamo ciao a tutti a presto ciao ciao